Ciao a tutti, torno a parlare delle discussioni su internet per sottolineare un aspetto che è abbastanza importante ed è che se crediamo di poter far cambiare idea a qualcuno, convincerlo della bontà delle nostre opinioni oppure convincerlo che quello in cui ha creduto finora è tutto sbagliato, non ci riusciremo, mettiamo da parte ogni speranza. Io è da diversi anni, molti anni diciamo pure, che passo parte del mio tempo su internet in anche un forum di discussioni eccetera e non posso ricordare un seguito episodio in cui una persona ammettesse di aver cambiato idea in seguito a una discussione avvenuta su internet. Io stesso ho cambiato idea diverse volte nel corso della mia vita su argomenti anche importanti di cui ero profondamente convinto ma questo non è mai successo per aver partecipato a una discussione su internet. Sono sempre state discussioni con amici e anche in quei casi il cambio di idea non è avvenuto subito è sempre frutto di una riflessione personale che richiede tempo. Le discussioni sono un buon modo per introdurre l'argomento, per far pensare, per far riflettere su alcune cose ma dopo la riflessione secondo me è sempre personale, non credo sia possibile convincere qualcuno a cambiare idea e probabilmente non è nemmeno giusto. Ecco questa è la perla di oggi. Vi saluto, ciao ciao.